Oggi a Trento ha debuttato la squadra di profughi che nel primo pomeriggio ha aderito a Noi siamo Trento ma non stiamo parlando di un evento sportivo bensì del progetto che mira a migliorare la pulizia e il deporo della città. Ci racconta di più Luca Bindi. Quando scoccavano le ore 14 e 25 ecco che a Trento sono scesi non in campo ma in strada nella rosa dei 30 profughi volontari ben sette giovani tutti provenienti dall'Africa che muniti delle attrezzature necessarie hanno iniziato a dare corpo al progetto Noi siamo Trento ovvero migliorare la città iniziando a ripulirla progetto voluto fortemente da comune e provincia. Sì certo una bella iniziativa l'abbiamo tanto voluta l'abbiamo costruita assieme a tanti partner e speriamo che sia Trento sia un esempio intanto iniziamo da qui anche se sono stranieri anche se conoscono poco l'italiano possono farcela e ai cittadini di Trento magari di imitarli ma anche se li vedono per strada di salutarli coinvolgerli ringraziarli per farli sentire più cittadini. Iniziativa dunque lodevole in una provincia trentina che vede finora l'accoglienza di bene 842 profughi oltre 100 di questi risiedono in città e come detto 30 di coloro hanno aderito a Noi siamo Trento. I giorni di lavoro saranno tre il lunedì e il sabato mattina mentre il mercoledì sarà di pomeriggio. Il tutto avverrà senza nessun corrispettivo economico insomma gratis. Ogni volta la squadra di profughi volontari che scenderà nelle vie della città sarà composta da un minimo di cinque persone fino ad un massimo di sette unità. Oggi è un nuovo lavoro come volontaria? Bello per me, sì. Obiettivo andare dove? Rimanere qui in Italia o da qualche? Sì, io voglio rimanere qua in Italia.